eccoci! Ciao a tutti! Questo è Udub, il mio canale YouTube dedicato al mondo del doppiaggio e dei doppiatori italiani. Oggi ti am benvenuto a Lilli Manzini. Ciao, ciao ragazzi, ciao ascoltatori, visualizzatori, grande Matteo. Grazie, grazie Lilli. Allora, facciamo una... Allora, prima di tutto come stai? Bene, bene. Noi dobbiamo stare sempre bene, se no sai, uff! Già, già è entrato dalle ferie? Anche se stiamo male, stiamo sempre bene. Già è entrato dalle ferie? E non ci sono mai stata, sinceramente, perché ho preferito godermi Roma in questa atmosfera di tranquillità, guarda, credimi, a volte serve. Certo. Allora, una breve scheda che racconta chi sei. Sei nata a Roma il 18 settembre, posso dire l'anno? Certo, 1976, fierissima che tra poco faccio 43 anni! Allora, cominciamo subito. Tu hai doppiato personaggi come Cecilia Yug in Focus, niente è come sembra. Puoi dire di questo personaggio che hai doppiato? Ma guarda, in realtà era quasi un cameo, perché il film è più incentrato su Will Smith e la protagonista, ma è stata una cosa molto divertente, perché io facevo l'amante di una persona che stava dentro un albergo, almeno così ricordo, e non ti dico, ho dovuto rifare quella battuta, già io dicevo proprio due cose, ma Roberto Chevalier, che magistralmente faceva la direzione, me la fece rifare tante volte, tante tante volte, perché era proprio difficile dire Cielo mio marito! Però doveva essere sia comica che, insomma, doveva essere anche incredibile, ma, no, però è stato un film abbastanza vissuto, dai, diciamo, perché siano quei film d'azione che in ogni caso ti divertono, anche se non sono quelle commedie così all'American Pie. Ok, ok, adesso passiamo ad animazione. Allora, ti ho dubbiato Ivanka Trump e i Griffin, come è stato a doppiare? Che cosa mi tiri fuori Griffin? Allora, tu lo sai perfettamente, tu mi vuoi un bene dell'anima quanto te ne voglio io, che ti seguo tanto io Matteo, perché chi segue la nostra categoria ci rende grandi, e io vivo per i Griffin, cioè, per me i Griffin sono veramente la vita, la vita, e doppiare per la prima volta un personaggio di puntata dopo quattro anni di, chiamiamola di gavetta, perché Loris Scaccianoce è una direttrice fin troppo in gamba, ma anche molto selettiva, quindi essendo lei maestra in questa categoria della direzione del doppiaggio, è una donna di grandissima esperienza, quindi è giusto che, aspetta perché non so se è andata via la connessione, ma penso di no, è giusto che faccia centellini bene i suoi attori. E io quando cominciai a fare i Griffin, ero già molto emozionata, però mi ero detta, devo dare il massimo, perché io credo in questo mio mestiere, e spero di essere ripagata un giorno, e soprattutto su questa serie televisiva, che amo, cioè proprio visceratamente. E alla fine, dopo quattro anni e mezzo, finalmente è arrivato questo ruolo, che non è che deve essere fisso, può essere anche di tre righe, ma mi devi credere, non ci sono uguali. Sono stata felicissima. Certo. Ok, quale di questi personaggi ti è piaciuto di più doppiare? Ah, dei Griffin? No, aspetta, di questi qui? No, ti spiego Matteo, perché giustamente ero doppiate tante di attrici, però siccome ci sono adesso delle cose che verranno fuori, che sono magari più corpose, come delle nuove serie televisive, che non ti nascondo, non vedo l'ora di vederle in televisione, tra Fox, Rai, Mediaset. Però fino adesso il mio percorso è stato un percorso molto riformativo, lo chiamiamo così, perché ho iniziato a quattro anni, poi dopo la morte di mio nonno Arturo ho abbandonato per riprendere qualche anno dopo e ovviamente poi le lavorazioni sono diverse, io vengo dalla vecchia scuola dove si doppiava in un certo modo, quindi i personaggi che ho fatto fino adesso sono molto variegati, però non ti nascondo che quello a cui sono molto legata è quello di che talento della mia Shirley che va in onda sulla Rai, che è un adolescente di 17 anni alla quale veramente ho dato tutta la Lilli possibile e immaginabile, perché io sono una molto versatile, io sono un carattere fondamentalmente, quindi non è detto che poi uno possa sfruttare questo dono nel poter bilanciare la propria voce come meglio crede o come meglio crede anche il direttore, perché senza di loro siamo nulla, però sono molto legata a Shirley, almeno per quello che ho fatto fino adesso, però poi secondo domani faremo un'altra intervista, siccome non posso parlare perché non sono uscite ancora queste cose, ti dirò anche quale altro personaggio sono molto legata, perché è un personaggio molto bello e ironico, chiamiamolo così, oppure anche il personaggio che ultimamente, no, quello è già uscito in Legion, faccio la mamma nella parte storica di Pezzulli, di David Xavier, e quello è stato un personaggio dove io mi sono sentita molto presa anche per l'argomento dell'olocausto, eccetera. Ah, Legion, molto bello! Sì, sì, bellissimo, lo spin-off insomma degli X-Men, serie psichedelica, molto particolare, ecco, diciamo particolare. Vero, vero, senti, una domanda molto importante, come ti è venuta questa passione per il doppiaggio? Beh, guarda, la passione alla fine è arrivata da sé, perché quando sei piccolo, e ti mettono già a leggeo, riscopri, cioè riscopri, scopri, a quattro anni non puoi neanche immaginare, è più un gioco, però più vai avanti e più, ecco, scopri che tu stai creando, stai arricchendo l'arte, e quindi siccome già chi nasce con un talento, talenti che sono di qualsiasi tipo nella forma artistica, sei un bravo disegnatore, sei un bravo cantante, un bravissimo attore di teatro, ma quando parli di doppiaggio, parli di dare te, in tutto e per tutto, a ciò che tu stai guardando. Peppino Rinaldi diceva sempre... Aspetta che c'è qualche problema. C'è un problema, Lilli? Senti? Eccomi, io ti sento. Ci siamo? Eccoci. Eccoci, ci siamo. Dico, dicevo Peppino, eh, che soggetto? Dove mi sei? Dove sei? Dico, quale è stato il primo doppiaggio? Qual è stato il doppiaggio? No, dove magari finalmente, dove si stava sentendo, se no lo ripeto. È che il doppiaggio è una cosa talmente particolare che quando tu stai facendo, stai doppiando un attore, come stavo dicendo, come mi aveva insegnato Peppino Rinaldi, dice se tu devi fare quello che fa lei, se la tua attrice mentre parla sta facendo così, fai così anche tu, cioè devi essere proprio lei. Poi, se le impari a memoria è ancora meglio, perché così hai più attenzione verso il labiale, verso le espressioni, le famose capuzziate, insomma, che tu devi cogliere per rendere ancora più credibile il personaggio. E la passione è arrivata giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, crescita per crescita, anche perché io ho avuto accanto dei maestri meravigliosi, come anche mio nonno Arturo Dominici, che io non smetterò mai di citare perché è stato veramente un grandissimo attore, un grandissimo doppiatore, che insieme ad altri illustri colleghi, come dico sempre, ha creato questa categoria del doppiaggio. Caspita! Allora, qual è stato il tuo primo doppiaggio? Il mio primo doppiaggio è stato, beh, di quello effettivo che ricordo molto bene, è stato la piccola Nell, o piccola grande Nell, no, piccola Nell, che mia zia Germana Dominici, che cito anche lei ovviamente, era la protagonista di quella signora, diciamo molto in carne di colore, che era la donna, era la governante di questo poliziotto, doppiato appunto da mio nonno, che aveva queste tre figlie. E la figlia più piccola, doppiata da Giuppi, nei flashback di quando era piccola, cioè, che so, poteva avere 5-6 anni, la doppiavo io, e quello è stato il mio primo ruolo, diciamo, effettivo, se no erano inizialmente dei brusietti, dei bambini, così insomma. Ok. Ho fatto il collegio, sì, dimmi, dimmi, dimmi. Ok, e che studi hai fatto prima di diventare doppiatrice? Allora, io, dunque, dopo le medie, ho fatto il liceo classico con sperimentazione linguistica, che poi ho abbandonato, perché non è tanto sbagliato, quando io dico che ti cambiano i professori, chi se ne frega. No, perché se io comincio un percorso con qualcuno, deve proseguire con quel qualcuno, se no ti manda fuori, e se tu prima prendevi 9 o 8 con quell'insegnante, poi ne arriva una nuova, le da 3, è perché magari non riesce a entrarti nella testa come quell'altra. Poi è tutta una questione più che altro psicologica, comunque. Ho fatto il classico con sperimentazione linguistica, che ho abbandonato, appunto per questa serie di motivi, e ho fatto assistenza a comunità infantile, quindi ho preso un attestato in psicologia, ho studiato molta filosofia, però non è che potevo adibire a chissà quale tipo di professionalità, ma del settore. Però io mi sono sempre comunque dedicata all'arte, perché poi quando era quel momento di stacco dal doppiaggio, io ho fatto la giornalista, la pasticcera, un po' ho fatto tutto, mi sono un po' dato da fare, fino a quando poi sono ritornata. Però gli studi li ho terminati con l'assistenza a comunità infantile, non ho fatto l'università, anche se l'ho seguita comunque, perché tu puoi avere anche la quinta elementare e seguire i corsi di università. Adoro la filosofia. Ok. Senti, come funziona? Come si segnano le voci di un personaggio? Ci sono dei casting? Che bel tasto che hai toccato! Allora, innanzitutto, quello che conta, a prescindere da simpatie e antipatie che hai con i direttori, perché c'è questo luogo comune nel doppiaggio, non si può piacere a tutti, ma anche proprio nel mondo, no? Io dico che non si può essere amici di tutti, che è un po' diverso, perché io non sarò certo Maria Pia di Meo, non sarò certo Domitilla D'Amico, non sarò certo, come altre colleghe, che stimo da morire, però la qualità la so riconoscere anch'io, perché io posso anche sbrodolarmi e dire che Lilli Manzini ha una voce di qualità, versatile, simpatica, poi può piacere, non piacere, però la scelta, secondo me, è più del committente, quando dice che il cliente vuole un certo tipo di voce, e allora lì, dov'è che c'è il discorso dei casting? che al momento è più sbagliato come riferimento, perché prima erano 6 e no 100 doppiatori, adesso siamo 2000 e qualche cosa, e pensa proprio a distribuirli tutti Matteo, comunque a prescindere da questo, adesso il cliente va su Wikipedia e dice, allora, che ne so, vediamo Tuzza Banchi Nicola, quante volte è stato doppiato da chi? allora, Tuzza Banchi Nicola, grande attore, di cinema americano, e vedi una serie di nomi, quello l'ha fatto 20 volte, quell'altro 18, quell'altro 16, e allora scelgono sempre quello che l'ha fatto di più, però a volte non è neanche così, perché ci sono stati molti attori, che sono sempre stati doppiati da quella voce, però per quel tipo di film, il cliente ha voluto un'altra voce, e poi dipende da produzione, no veramente, non sto scherzando, stai dicendo quel tipo di film, perché sei un po' bloccato, no, in che senso tipo di film, no, dipende dai tipi di film, perché molti attori, Michael Keaton ad esempio, è stato doppiato da Cordova, da Chevalier, Massimo Rossi, voglio dire, Luca Biaggini, ma dipende sempre, anche da quello che è il gusto del cliente, a prescindere dal direttore di doppiaggio, perché se è una serie televisiva, dove vai a gusto personale, e non è a livello stramondiale, ok, va bene, la casa di carta, grande successo internazionale, però lì ad esempio non so, chi ha deciso la distribuzione, dove per me, ripeto, Cannella per la Liberatori, eccetera, eccetera, funzionano alla grandissima, in quel caso non lo so, ma per quanto riguarda i film di circuito, dipende dai clienti, perché poi ci sono anche i provini su parte, però dov'è il punto? Se tu non credi, non stimi quel tipo di doppiatore, qui parlo proprio del direttore di doppiaggio, che all'incarico dal committente, che fa i compagni su parte, nonostante il direttore sia stato, è stato, è stato, è stato da altri, da altri, da un attore lì, se tu non dai l'opportunità, è ovvio che chiameranno sempre gli stessi, ma io lo dico con tutto il rispetto dei miei colleghi, perché vi parlo pure per me, però se ci deve essere un ricircolo di voci, non ti dico riciclo, ricircolo come l'aria, allora magari quel direttore, che mano a mano che passano gli anni, comincia a conoscerti, eccetera, eccetera, dice, chiamiamo Limanzini, papparapappa, tutta la tutta, e vediamo come va, e si fa voce 1, voce 2, voce 3, se fai voce del nome, voce del nome, voce del nome, grazie a cavo, è facile il cliente, invece sarebbe più corretto, penso che qualcuno già l'abbia fatto, che si faccia voce 1, voce 2, voce 3, quindi secondo me, a prescindere dai gusti dei direttori, ai quali vengono assegnati delle serie, dei cartoni animati, e quindi c'è anche un rapporto di stima, con il doppiatore con il quale lavorano sempre, a parer mio, per quanto riguarda i film di circuito, dipende dal cliente, e poi se mi sto sbagliando, mi daranno una martellata in testa, e chi se ne frega, io ho le mie opinioni, e hanno dette, ok, senti, come ti prepari, prima di interpretare un personaggio? Allora, è successo ultimamente, perché adesso ho finito a giugno, questa serie da protagonista, che siamo in attesa, una serie evento che andrà su Fox, devo dire che nonostante, lo studio del personaggio, perché io l'ho dovuto vedere prima, è una questione più che altro di approccio mentale, perché molte attrici da doppiare, sono particolari nella loro recitazione, e quindi è vero sì che bisogna fare quello che noi vediamo, fatto da loro, ma è bene sempre che il doppiatore, attenendosi sempre all'originale, dia quella nota in più, da far vedere la differenza, ripeto, il doppiaggio italiano, credo che sia il più importante del mondo, a prescindere da chi dice, meglio l'originale, non originale, io sono di quella che pensa, che il doppiaggio italiano è la salvezza, o quantomeno era la salvezza, delle produzioni cinematografiche, televisive, animazioni, eccetera, noi doppiatori sappiamo, gli italiani, sappiamo dare quella sfumatura, che gli altri non sanno dare, noi siamo molto strionici, e quindi la preparazione, va a seconda di quello che io percepisco, da quell'attrice da doppiare, poi mi attengo assolutamente, alle facce, gli sbuffi, le cose, però la devo sentire mia, per potergli dare lilli, altrimenti non è credibile. Ok, allora, nella tua scheda, non trovo, ringraziamo Antonia e Genna, con il suo fantastico sito, notizie in merito? Io lo devo dire, lo devo dire, io perché amo Genna? Prima di tutto, è che c'è un rapporto di stima reciproca, perché io mi comporto sempre in maniera educata, anche col peggior nemico, ovviamente non parlo di Genna, perché Genna è un carissimo amico, perché bisogna voler bene a tutti, a tutti, perché siamo esseri umani, che più chi meno, però, io Genna lo ringrazio, perché veramente, ci sono anche altri colleghi, come Federica D'Amico, che ha creato il doppiaggio.it, non parliamo poi dei grandi, Massimiliano Torsani, e Eleonora De Angelis, con Vix Vocal, che stanno facendo un lavoro meraviglioso, veramente, anche lì stiamo andando a livello internazionale, ci siamo, ma io Genna lo ringrazio particolarmente, perché è molto, cioè è preciso, io ogni cosa che faccio, aspetto, che ne so, quei 4-5 mesi per fare la mia lista, e mandarla ad Antonio, perché vedo che lui ci tiene moltissimo, alla nostra categoria, e a prescindere da come, più che altro dai tempi, in cui riesce a realizzare, questi nostri aggiornamenti, però ci si dedica, e allora io, gli riconosco la bravura, e sento di doverlo, ringraziare a modo mio, insomma, grazie, grazie Antonio, grazie Antonio, carissimo, sì, scusami, tanti dicevi, ti avevo interrotto, però volevo ringraziare, tutte queste persone, al di là, di quello che sentite, però c'è anche un bel lavoro dietro, per far sì che noi, possiamo essere ascoltati, perché anche Vix Vocal, è geniale questa cosa, tu non riconosci la voce, clicchi l'applicazione, clicchi sull'applicazione, e dici, oh madonna, questo è Besesti, oppure, no, questo è la manicune, addio, questo, chi è Francesco Brando, insomma, per gli appassionati di doppiaggio, è fondamentale, quindi scusa, mi dicevi sulla scheda? Tu fai la doppiatrice, tu fai l'attrice o la cantante? No, 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 quella è mia sorella, che fa l'attrice comica, imitatrice, no, 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 io sono soltanto doppiatrice, ho provato a dilettarmi nel canto, che, guarda, per cose veramente piccioline, ancora posso funzionare, in quanto Brancucci non mi ha ancora mandato a quel paese, quindi, anche la figlia, che manda un bacione a Virginia, non mi hanno ancora dato le mazzate, quindi, per cose piccole, riesco a cantare, però no, fondamentalmente sono, sono doppiatrice, assolutamente, forse perché ho molto orecchio, non so se si vede, guarda, si vedono, si vedono, si vedono le tue orecchie, guarda, Matteo, intuito e orecchio, sono fondamentali per il doppiatrice, altrimenti stoni, perché non è che stoni, perché sei stonato, come una campana, perché non sai cantare, qui la stonatura è anche sulle, sulle note vocali, interpretative. Certo, allora, qual è il tuo rapporto con il cinema? Ti piace? Ma, tu oggi mi sei caduto, proprio come il cacio sui maccheroni, io sono una cinese, al mio attivo ho più di 10.275 film, che partono dalla prima sceneggiatura di Alfred Hitchcock, fino ad adesso, se io riesco ad avere un Spider-Man, 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 ah, ma come fanno questi, Spider-Man, Far From Home, che è uscito a luglio, ecco, diciamo che a settembre, fine settembre, assolutamente deve essere mio, perché deve stare nella mia collezione, ma io ho collezioni di vario genere dai film, veramente degli anni 20 fino adesso, e il cinema mi è stato donato nel cuore da mio nonno Arturo. Ok. Tanto. È una passione meravigliosa. Bene, e che genere preferisci tu? Preferisco gli storici, tipo Ben-Hur, tipo il re dei re, tipo i dieci, sì, sono un po' teologici anche quelli, però, credimi che il cinema storico, i famosi colossal o colossal, come li vogliono chiamare, mi credi che più hanno quella pesantezza, come dice, madonna, 55 giorni a Pechino, quello qua, è vero, sono pesanti, anche i diagolventi è pesanti, però, lì, capisci tutto, l'introspezione del regista, tutto quello che è il fattore interpretativo degli attituri, perché, dov'è che, in genere, se tu dicevi, commedia, drammatico, è facile, però, lo storico, è difficile da interpretare, e non ti va bene, ok, io ho parlato di quelli degli anni 50, ma, insomma, ce ne sono stati tanti, come anche il gladiatore, a parte qualche errore, sui costumi, quello ci può anche stare, perché il Colosseo non esisteva, quando c'era Massimo Decimo Medidio, vabbè, il Fideatro Flavio, perché sarebbe stato inventato dopo, ma, facciamo stare, ma a parte quello, come anche in Povadis, non esisteva, ai tempi di Nerone, però, vabbè, nasce il tempo che trova, e, è difficile, è molto difficile, interpretare, i film storici, sia come attore, che come doppiatore, guarda, io non te lo posso dire, con grande fermezza, perché, mio nonno Arturo, appunto, e non so se hai visto, sulla pagina che ho creato, in suo onore, in memoria, e, ne ha fatti talmente tanti, 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 non è facile, perché, certo, non è che noi possiamo sapere, come parlavano, ai tempi dei latini, ma, sicuramente, chi ha studiato, la storia del costume, della cinematografia, e, e anche, proprio, la storia in sé, il, la forma mentis, e quindi, il modus vivendi, di, quella categoria, di persone, di, di personaggi, che hanno vissuto, realmente, in quell'epoca, era veramente, difficile da interpretare, cioè, un imperatore Augusto, non è uno che parla romano, ah, io sono imperatore Augusto, eh no, se ti vai a guardare, un'altra bella mazzata, di tre ore, eh, ma guarda, credimi, non è semplice, basta vedere, l'interpretazione, di Rex Harrison, che faceva, ok, Cesare, certo, allora, eh, c'è un ruolo, che avresti voluto, tanto doppiare? mmm, contemporaneo, cioè, nel senso, contemporaneo, grazie, siamo tutti vivi, ancora, per fortuna, eh, no, aspetta, tu mi parli, di che epoca, di doppiaggio? Qualunque. Dunque, con tutti i film che ho visto, allora, aspetta, come? ci puoi dire, come? Per esempio, che la patra, no? No, 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 su Leeds Taylor, non mi ci sarei mai vista, ma neanche, ecco, aspetta, mi avrebbe tanto fatto piacere, doppiare, doppiare, Katrin Eppon, perché Katrin Eppon, lasciamo stare la magistrale interpretazione della Vanda De Toniche, come la doppiava lei, per carità di Dio, basta vedere la costola di Adamo, anche, fin troppi, ma anche la Anna Miserocchi, tanto di cappello, quando l'ha doppiata, inovina chi viene a cena, non è da discorso, cioè, mi veniva il nodo alla gola ogni volta che apriva bocca, però Katrin Eppon, che è la mia attrice preferita dell'epoca passata, l'avrei doppiata con molto orgoglio, perché è una donna meravigliosa, anticonformista come me, io adoro l'anticonformista, io vado oltre le regole, proprio assolutamente, rispetto i canoni della vita, però sono una che va contro le regole, e Katrin Eppon è una così, e mi piacciono le donne di carattere, e avrei dovuto doppiare lei, nel ruolo, ecco, nel ruolo che ha fatto con Cary Grant, in Scandalo a Filadelfia. Oh, caspita, ok, qual è il tuo rapporto con la musica? Ti piace? Sì, anche lì, come anche gli sceneggiati tv, il teatro, anche lì, ne ho veramente a più non posso, mi piace il genere pop, perché è quello che preferisco, e con questo avvento del rap, io non mi ci trovo molto a braccetto, ma neanche quando c'era giù, che pagava, se non la rap, se non la metropolitana, se non la metropolitana, se non la rap, se non la rap, no, non ce la faccio. Guarda, qui si parla di 25 anni fa, Beato Lui, che è l'unico che ce l'ha fatta, diciamo, inizialmente, pur essendo stonato con la zeppola, quindi non si sa come queste fantasie, queste meraviglie, di fortuna e dello spettacolo, ma il rap, no, il rap non fa per me, amo il pop, il rock, questo tipo, giusto? Eh? Un pochino. Non ho capito, scusa, Matteo. Il rock ti piace un pochino, giusto? Eh, sì, guarda, ai tempi dei, ma, dei, dei, dei queen, ecco, killer queen, ecco, penso che forse i queen, anche i Doors, anche se poi i Doors cominciano ad andare su Rhythm & Blues verso la fine, però sì, su delle cose sono molto ferrata, ma sempre anni 60-70, perché la musica, Matteo, io lo devo dire, è un mio parere, la musica è finita, io sono rimasta a Lou Reed, Ipin Floyd, vabbè, guarda, i miei italiani preferiti sono Rino Gaetano, Lucio Battisti, number one, Lucio Dalla, cioè, no, ma che proprio, dice, ma Lilli, ma che è? Eh, lo so, eh, lo so, però, che devo, Riccardo Cocciante, ma troppi, guarda, ce ne sono, però non riesco a concepire l'evoluzione musicale, evidentemente c'ho qualche limite io, sì, mi piacciono delle canzoni moderne, mi piace Francesco Gabbani, ma perché anche lui lì parla di un argomento che sottilmente prende in giro la modernità, i modaioli, ma sempre perché si attacca alla mia filosofia di vita, altrimenti non lo so, scusa Matteo, ma io sono un po' retro, sono un po' vintage. Ok, tranquilli, non preoccuparti. Allora, se tu mi posti Lillimanzini, che avresti voluto essere? Un cartone animato giapponese, tipo l'Alabel, che se ti informi su Google, l'Alabel era una maghetta che poi alla fine, pensa, alla fine del cartone animato diventa un essere umano come tutti gli altri e l'Alabel mi piaceva tanto, mi dava tanta allegria e io ho sempre vissuto in un mondo magico, tutto mio, dove difficilmente ci faccio entrare le persone, perché tanto non mi capisco, non pensano che sono una pazza egocentrica, una scocciata mentale, ma non è così, perché ricordatevi tutti, e questo lo dico a tutti, che chi ha sofferto tanto nella vita, due sono le cose, o diventa stronzo o diventa buono, dolce e fregnone come me, che deve dare tanta allegria. Ok, allora, qual è la cosa più divertente e qual è la cosa più noiosa del tuo lavoro? Eh, allora, la cosa più divertente, intanto devi avere la fortuna di avere un team di lavoro dove, dove sei, non ti dico proprio amato, ma rispettato, e quindi che siano capaci di saper distinguere tra persona e persona, perché un fonico, come un direttore di doppiaggio, come un assistente, qui parlo molto più seriamente, ovviamente, del cartone animato, perché non è che tutti trattano tutti nella stessa maniera, il Limanzini viene trattato in un modo, quell'altro viene trattato in un altro, quell'altro ancora viene trattato in un altro, e quindi, quando hai la fortuna di avere un team che ti tratta, che ti fa sentire in famiglia, con allegrie, di serenità, senza ansie, la prestazione, allora ti diverti, perché ti diverti a trovare tutte le sfumature del personaggio da doppiare e da creare insieme al tuo direttore di doppiaggio, con la fondamentale, con la fondamentale presenza dell'assistente, che io ribadisco, deve starci l'assistente, perché non si può stare senza assistente di doppiaggio, e sono fondamentali, senza di loro, cioè ragazzi, i fonici sono dei maghi del Pro Tools che ti levano la sporcatura, la scivolatina, lo schiocchetto, quindi già quello è importantissimo l'assistente, quindi, se trovi quel team, ti diverti, e dov'è invece che potrei annoiarmi? Allora, la cosa che mi annoia, anche se lo so che si deve fare, perché è molto importante, è leggere le battute prima di doverle doppiare, soprattutto se sono dei monologhi da 40, 50, 60 righe, e quello è noioso, perché devi star lì, rileggere, rileggere, perché è ovvio che a volte gli adattamenti si possono anche sbagliare, quindi è bene trovare la giusta interpretazione, vedere dal punto di vista grammaticale se la punteggiatura va bene, ecco, e quella è l'unica noia che ho, perché per il resto se il team è giusto, se ti si fa sentire a casa, e lo dico a tutte, anche per tutti gli altri che magari non hanno detto, ma io sono quella che si espone, perché se ne è esposto Gesù Cristo non è servile a niente, ma certo io non sono Gesù Cristo, ma mi espongo per la mia categoria, perché io amo tutti i miei colleghi, anche a quelli a cui sto sui coglioni, però io li amo tutti, però, allora, io dico, se si sta in un'atmosfera di famiglia, credetemi che si lavora bene e ci si diventa. Ok, ok, allora, vuoi fare un saluto a tutti gli amici del mio canale Udab? Io do un grosso saluto a tutti gli amici del canale di Udab, ringrazio Matteo per questa grande innovazione, perché comunque siamo tutti ormai dei blogger, degli youtuber, ma siccome la nostra categoria non viene molto elevata e noi stiamo lottando tanto tra premi del doppiaggio, tra serate, noi facciamo di tutto per uscire fuori da quell'ombra che tanto poi amiamo perché diamo emozioni, come dice Lilli Manzini, noi doppiatori siamo la voce dei sentimenti di chi ci ascolta, che questi sentimenti siano d'amore, di commozione, di rabbia, di incertezza, ma noi doppiatori siamo la voce dei sentimenti di chi ci ascolta. Benissimo, ok, allora, a tutti gli amici appuntamento alla prossima intervista a tutti quanti, alla prossima intervista credo forse con un altro avviatore, non si sa, con Gabriele Lopez alla prossima settimana, vediamo, e grazie Lilli della tua simpatia e della tua disponibilità, è stata una bella chiacchierata. Grazie, grazie Matteo, ciao. Ciao.